Eccoci qua, come ogni anno vi porto alla fiera degli Obey Obey, la fiera di Sant'Ambrogio, la fiera di noi milanesi. Fino a qualche anno fa questa fiera era lunga in Aviglia, adesso da qualche anno a questa parte l'amministrazione comunale ha deciso di portarla qua, tutta intorno al castello Sforzesco. Oggi è il 5 dicembre, fra due giorni a Sant'Ambrogio, la festa di noi milanesi. Eccola qui la fiera degli Obey Obey, te capi? Bussecca, cascola, quattro uff cottino del foc, poi sentiù di Milano, stiteroni di merda.